Tratto dal libro I tre ciucci recita l'autore Pinuccio Giuzio E' una cosa speciale che ha durato oggi per sempre In questo mondo e non solo Questa è la potenza e il sacramento del nostro Signore Auguri, Reina, amore, salute e bene Non ti possono mai abbandonare Con noi oggi a Craia, con chi sa